Buonasera a tutti e benvenuti in questo spazio di preparazione alla nostra 44esima conferenza nazionale animatori del rinnovamento nello Spirito Santo che avrà per tema una citazione tratta dal Vangelo di Matteo al capitolo 23 e voi siete tutti fratelli. Avrà come sfondo l'ultima enciclica di Papa Francesco Fratelli Tutti. Si svolgerà il 12 e il 13 dicembre 2020 online e vedrà la partecipazione degli animatori, delle gruppi, delle comunità, dei cenacoli del rinnovamento dello Spirito Santo in Italia. Io oggi vi parlerò di una delle opere di misericordia corporale che è dare da mangiare agli affamati. La visione profetica che sta animando la preparazione di questa conferenza animatori che di fatto è programmatica quindi ci condurrà poi anche nel tempo a mettere in atto alcune iniziative è quella di una spiritualità carismatica per così dire incarnata. Il tempo della pandemia che sta interessando l'umanità intera ha soltanto accentuato quelli che da sempre sono le necessità emergenziali di una parte della società. Del resto la cura dei bisogni corporali e spirituali degli uomini è sostanziale e costitutiva di una vita fondata in Cristo Gesù Signore. Nessuno infatti può dire di amare Dio che non vede se non ama il fratello che vede. Nella solennità di Cristo Re dell'universo appena vissuta abbiamo sentito nel Vangelo sempre secondo Matteo al capitolo 21 che il Re cioè il Signore Gesù ci parla degli ultimi tempi, ci parla della quello che ci attende prima di entrare definitivamente nel regno che Gesù consegnerà al Padre. Leggiamo qualche versetto dal capitolo 25. Quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli si siederà sul trono della sua gloria e saranno riunite davanti a lui tutte le genti ed egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dai capri e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il Re dirà a quelli che stanno alla sua destra venite benedetti dal Padre mio ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare e così via seguono poi le altre opere di cui parleranno gli altri miei fratelli. Come possiamo allora oggi entrare nel vivo di una delle opere di misericordia corporale cioè dare da mangiare agli affamati? Sarebbe piuttosto riduttivo limitarci al solo aspetto del soddisfacimento di un bisogno fisiologico che è quello del nutristi che è pur necessario. Tale bisogno di fatto non è altro che l'apice di una condizione dell'individuo ben più complessa e articolata che richiede cura e un accompagnamento affinché diventi una concreta opera di risanamento del bisognoso in tutte le sue componenti spirituale, corporale e direi anche sociale per riflesso. Se una persona oggi si trova nella condizione di avere fame perché non mangia da giorni evidentemente a questa condizione ci è arrivato per una serie di ingiustizie. Possono essere ingiustizie personali scelte di vita sbagliate oppure sociali che riguardano il lavoro i salari e così via che affamano l'uomo di abbandoni da parte dei familiari e possiamo aggiungere tante altre situazioni di crisi che ci portano a queste conseguenze estreme. Dobbiamo convincerci da cristiani e da persone che hanno fatto un'esperienza viva di Gesù che dietro una crisi materiale c'è sempre una crisi spirituale. Il Vangelo di Gesù ma tutta la Sacra Scrittura favorisce e promuove sempre in ogni tempo un benessere del genere umano. La vita è promossa dal Vangelo, non potrebbe essere diversamente se crediamo che Gesù è venuto tra noi perché abbiamo la vita e l'abbiamo in abbondanza come leggiamo nel Vangelo di Giovanni al capitolo 10 versetto 10. Egli stesso Gesù sfamò le folle quando moltiplicò i cinque pani e i due pesci con il fine ultimo però di metterle in condizione anche fisica di poter ascoltare la parola di salvezza. Non solo, disse ai suoi discepoli, date voi stessi loro da mangiare, cioè siate cibo di testimonianza per loro con la vostra vita convertita. Date loro ciò che siete, date loro ciò che siete. Ma ancora non c'era stata la Pentecoste e lo spartiacque, cioè tra l'io e il noi, che avrebbe fatto degli apostoli quel giorno dei veri diffusori di una nuova cultura, quella appunto della Pentecoste. Tant'è che si verifico quanto appresso, cioè quando Gesù si accorge che la gente lo segue perché ha mangiato e si è saziata, non fa un altro miracolo e chiaramente dice mi avete seguito perché avete mangiato quel pane, ma c'è un altro pane da mangiare ed è la parola, la parola che salva, leggiamo nel Vangelo di Giovanni al capitolo 6. Dar da mangiare non vuol dire solo dare un panino, un pezzo di pane, ma vuol dire anche nutrire l'anima, lo spirito, l'intelligenza delle persone. Quindi non pensiamo di aver praticato l'opera di misericordia perché abbiamo dato un sacchetto con dei viveri, ma con esso va data la parola, va data la speranza, va data la gioia di appartenere a Gesù. Anche un'istruzione, un ammonimento, così come ha fatto Gesù. L'entrare in relazione con un affamato, pertanto presuppone un atteggiamento del cuore, una predisposizione spirituale che derivi da una vita di preghiera, da una vita sacramentale. La filantropia, se pur positiva in sé, tuttavia non produce effetti sananti come quelli di un cuore che ama quella situazione, compatisce con quella persona, ne percepisce il grido muto reso visibile dalla sua condizione di indigenza. E proverà, quest'uomo convertito, questa comunità convertita, a trovare una soluzione definitiva per quella persona. Sant'Agostino dirà in uno dei suoi discorsi «Quando il tuo cuore è toccato, colpito dalla miseria altrui, ecco, allora quella è la misericordia». Fate attenzione, pertanto, fratelli miei, come tutte le buone opere che facciamo nella vita riguardano veramente la misericordia. Ad esempio, tu dai del pane a chi ha fame? Daglielo con la partecipazione del cuore, non con non curanza, per non trattare come un cane l'uomo attesibile. Quando dunque compi un atto di misericordia, comportati così. Se porgi un pane, cerca di essere partecipe della pena di chi ha fame. Discorso 358 di Sant'Agostino. Egli vuol dirci in sostanza che il pietismo non aiuterà mai nessuno, perché soddisfatta la fame temporanea quel soggetto avrà di nuovo fame e la sua condizione magari sarà peggiore della precedente. E non ho il tempo di fare un riferimento anche all'incontro di Gesù con la samaritana al pozzo, ma comprendete che noi parliamo di una fame, di una sete che va al di là dei beni materiali. Amare è il verbo da utilizzare quando si opera la carità. Se allora è vero che sfamare col cibo aiuta a sopravvivere, amare e sfamare la fame di Dio che c'è nel cuore degli uomini di questo tempo aiuta a rivivere. Come daremo allora da mangiare spiritualmente, oltre che materialmente, a coloro che il Signore ci mette davanti. Ricordiamo che Gesù dirà tutto quello che avrete fatto o non fatto, lo avrete fatto o non fatto a me. Faremo, riguardo alla nostra identità del rinnovamento nello Spirito Santo, quanto il nostro movimento ecclesiale è stato chiamato a fare da sempre. Far riscoprire agli uomini attraverso l'esperienza del battesimo dello Spirito la grazia battesimale per una conversione piena, autentica e immatura in Dio. Questo basterà a togliere la fame tra gli uomini? San Paolo della Lettera ai Romani al capitolo 14 verso 17 dice a proposito della vita eterna. Il regno di Dio infatti non è questione di cibo o di bevanda, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Di quale fame allora occuparci per compiere le opere di Dio? La fame di verità, la fame di giustizia, la fame di equità solidale, la fame di diritti umani calpestati, occuparci del digiuno provocato da politiche scelerate a favore dei ricchi. Quando un uomo, una famiglia, un politico, una nazione avranno sperimentato la parola che salva e la metteranno in pratica e ci sarà la conversione dei cuori, ecco che la giustizia si leverà sopra ogni indigenza perché nessuno sarà più nel bisogno. Tutto passa dall'amore, l'amore non si compra, l'amore non si vende, l'amore va chiesto come dono dal cielo, se davvero amiamo i nostri fratelli, se davvero amiamo i nostri fratelli. La vita che ci è concessa su questa terra è una e non va sprecata da pance piene che non si curano di pance vuote. Finché il nostro orizzonte arriverà fino al nostro benessere personale non saremo mai capaci di sfamare nessuno, nemmeno se li portassimo da mangiare ogni giorno. La fame, come altre indigenze, si cura con il calore della compagnia, della vicinanza, della gratuità, dei sentimenti. Siamo ormai in avvento e un detto recita a Natale siamo tutti più buoni e questo non è un complimento guardato per un cristiano, vuol dire che per il resto dell'anno siamo meno buoni e questo non si addice a chi ama. I nostri gruppi, cenacoli, comunità di rinnovamento saranno sicuramente impegnati a venire incontro ai limiti imposti dalla pandemia, in particolare nei confronti di anziani, famiglie, impossibilitate addirittura a fare la spesa per mangiare. Ma lo faremo da saziati dalla parola per saziare anche con la nostra testimonianza chi ha bisogno di una speranza, di un incontro autentico con Gesù. Concludo allora con le parole di Papa Francesco rivolta al rinnovamento nello Spirito Santo nel 2015 in piazza San Pietro. Chiedo il vostro importante contributo per il rinnovamento, il Papa, in particolare per impegnarvi a condividere con tutti nella Chiesa il battesimo nello Spirito che avete ricevuto. Avete vissuto questa esperienza? condividetela nella Chiesa e questo è il servizio molto importante, più importante che si possa dare a tutti nella Chiesa, aiutare il popolo di Dio nell'incontro personale con Gesù Cristo che si cambia e ci cambia in uomini e donne nuove, in piccoli gruppi, umili ma efficaci perché è lo Spirito che opera. Allora in forza di questo patrimonio spirituale apriamo il nostro cuore a soddisfare la fame dell'affamato di cibo ma anche di verità. Gesù è il Signore. Alleluia.